Oggi facciamo la recensione live di un film che si chiama Resurrection Corporation di Alberto Genovese su Prime Video Chi ha Prime deve fare due cose Abbonarsi a questo canale gratis perché c'è questa possibilità Se non ce la fa chiede aiuto da casa o mi manda un messaggio privato E poi andare su Prime e vedere Resurrection Corporation Un prodotto italiano Facciamo un po' quelli che se la menano Un prodotto italiano, un po' come a classic horror story Un momento di orgoglio nazionale Andate a vederlo su Prime, è uscito ieri Allora, Resurrection Corporation è un film di Alberto Genovese Molti che seguono il mondo dell'horror underground lo conoscono già Perché ha già fatto cose buone e giuste per questo tipo di cinema Una di queste è il film Dolcezza Estrema Extrema, qual è? X È un film di fantascienza horror, quindi estremo Dove i personaggi sono realizzati utilizzando dei calzini Non so se vi ricordate film come Mid the Feeble O che altri film ci sono di questo genere Comunque diciamo è un film di pupazzi fondamentalmente Solo che per rendere la cosa più semplice e meno costosa Questo film è stato realizzato usando dei calzini Quindi ci sono dei calzini con le mani dentro che parlano E ci sono dei personaggi fantastici ma sono fatti veramente molto bene È anche abbastanza violento con scene hard Lo so che fa ridere dire e pensare a scene hard E dei calzini che fanno scene hard È veramente molto molto divertente È il classico film che in America troverebbe spazio e in Italia no E infatti è distribuito dalla Troma Questo film è distribuito dalla Troma E in Italia invece tra virgolette non se lo caga nessuno Invece non è vero qualcuno se lo caga Perché è uscito con movies in DVD e in Blu-ray Insomma perché stanno nascendo queste realtà che si occupano di cinema indipendenti Oltre a questo Alberto Genovese ha anche realizzato un libro Che si chiama La pellicola va nella plastica Con una selezione molto importante È un librone, è una mappazza Con i film trash Insomma un sacco di film trash Dall'exploitation all'horror, alla fantascienza Eccetera eccetera Lo abbiamo intervistato qua in live Quindi trovate la live con Alberto Genovese sul canale YouTube E a volte abbiamo anche usato il libro qua in live Per cercare delle trashette e andare a scoprire Quindi è un libro che tireremo sempre fuori Per scoprire nuove trashette Oltre a questo libro ha fatto Resurrection Corporation Un film in animazione horror A quanto dicono Insomma a quanto diceva il post dello sceneggiatore Insomma l'autore della storia è Mattia De Pascali Pare che sia il primo cartone animato horror italiano Pare Di sicuro si può dire che non ci sono tantissimi casi E quindi è un bel evento questo Allora mi vado ad aprire il trailer E vi dico una cosa Il film è pronto da due anni Ed è stato distribuito È stato preso da una casa di distribuzione molto importante E questo è un bene Ed è stato distribuito prima negli Stati Uniti Su Amazon Prime americano Dopo un bel po' di tempo è arrivato anche da noi Addirittura è stato doppiato da questa casa di distribuzione Io il giorno 1 Il giorno 1 in cui ho saputo che era online Devo dire la verità ero curioso Era tanto tempo che sentivo parlare di questo film Alberto lo conosco Nel senso che ci siamo incontrati un paio di volte Per bere un caffè a chiacchierare di cinema Poi è stato mio ospite in live E quindi diciamo un po' ci conosciamo E quindi la curiosità c'era per Vi metto il trailer E poi ne parliamo Ebbene, ascoltatemi A me gli occhi A me gli occhi Orribile carcassa putrescente che non sei altro Aspetti, dottore Un intero mondo è svanito Nel giro di poco tempo Non ne avrebbe uno con gli scaffali? Queste sono casse da morto Ne vuole una? Allora deve prima morire Zombie Sono solo dei maleodoranti zombie Tutto è mutato Nulla è più come prima Cal, bruciale E smettila di vivere nel passato Aiuto! Non restava che gettarmi a capofitto Nella più pericolosa delle ricerche Ebbene sì, non curtismo! Sono benvenuti Nei umili e inutili ospiti Perché? Perché? Si è privati di una fine Sono tornata Allora ragazzuoli Come avrete potuto notare Dalle immagini del trailer Stiamo parlando di un film d'animazione Che ha uno stile un po' Alla South Park È un po' rudimentale Sotto certi punti di vista Mentre invece sotto altri punti di vista È piuttosto sofisticato Ma facciamo un passo alla volta Il film si ispira Chiaramente al film Il gabinetto del dottor Caligari Addirittura Il protagonista si chiama Dottor Caligari Sembrerebbe essere Adesso io l'ho visto Non ho capito bene Però sembrerebbe essere Il dottor Caligari Prima della versione del film Perché nel film del 1920 È vecchio Quindi qua è invece più giovane Quindi potrebbe essere quello Oppure potrebbe essere Un'altra versione del dottor Caligari Comunque Siamo in un posto In un luogo Dove il dottor Caligari Ha un'impresa di pompe funebri Che sta andando in rovina Perché la Resurrection Corporation È una società Che dona la resurrezione Ai suoi clienti Quindi tutti hanno Avendo paura della morte Tutti vanno da questa società A farsi risuscitare E quindi insomma Gli affari del Del dottor Caligari Sono rovinati Da lì Nascerà La volontà Da parte sua Di indagare E scoprire Che cosa c'è dietro La Resurrection Corporation E verranno fuori Dei misteri Verranno svelate delle cose Il film Che ha questo look Che potrebbe anche Far storcere il naso All'inizio Un po' alla South Park Appunto Con personaggi In alcuni In alcune parti Disegnati male Si può dire Un po' male In realtà E lo dico da persona Che comunque Di disegno Se intende In quanto Comunque sono Un ex fumettista Tra virgolette Nel senso Ho fatto la scuola Il fumetto Perché In questo stile Rudimentale C'è una grande Omogenità Una grande armonia E una grande Funzionalità Di ogni cosa Quindi Nonostante Alcuni elementi Siano disegnati In modo Un po' rudimentale Tutto funziona Alla grande Tutto funziona Alla grande E questa è una caratteristica Che In realtà Sempre contraddistinto Alberto Genovese Cioè La capacità Di creare Un look Una guida Una guideline Visiva Artistica E seguirla In modo Preciso In modo da dare Una sensazione Di credibilità Al tutto E infatti Questo stile Che appunto Potrebbe far Storcere il naso A qualcuno Per esempio Anche South Park Soffre di questo Primo impatto In realtà Poi Superati I primi Cinque minuti Si entra Dentro Questa fantastica Storia E si gode Si gode Di brutto A livello Visivo Nonostante Parta da Questi presupposti Perché Al suo interno Tutto è fatto In maniera Estremamente Funzionale Rudimentale Ma funzionale Lo vedete Anche Dalle immagini Come potete Vedere Ci sono Elementi Adesso vi faccio Andare un attimo Il trailer sotto Così lo potete Vedere Ci sono Delle tecniche Miste In questo cartone Animato Quindi Texture Fotografiche Disegni Fatti Diciamo Comunque Al computer Vettoriale O non vettoriale Insomma Comunque Digitali Ombre Messe Diciamo Con effetti After effects Eccetera Adesso io dico Dei nomi Poi magari Sono stati usati Degli altri programmi E poi ci sono Tantissime Tecniche Di Panne zoom Cioè Panne zoom Significa Spostamenti E zoom Che creano Un dinamismo Veramente Strepitoso Che ti fa Dimenticare Dimenticare Tantissimo La povertà Delle animazioni Perché È evidente Che un prodotto Indipendente Realizzato Da poche persone Diciamo Proprio Che si contano Sulle dita Di una mano Escludendo Diciamo I I Dopiatori Chiaramente È evidente Che non può avere Tantissime animazioni Come una produzione Gigantesca Ecco Grazie a tutti questi Escamotage Tecniche di regia Che sono più tipiche Dell'animazione Non vi accorgerete Che il film Ha poche animazioni Sui personaggi Quindi In realtà Il risultato finale Sarà molto Molto efficace Anche questo Utilizzare Tecniche miste In continuazione Quindi senza Farlo Una sola volta Ma Continuare Con il giusto Equilibrio A Mescolare Appunto Per esempio Qua vediamo Un fumo Fatto In post Produzione In Sopra Dei disegni Bidimensionali Vediamo Delle grafiche Qua vediamo Delle texture Delle foto Di architetture Quindi Tutti questi elementi Mescolati insieme E fatti Sempre con lo stesso Con la stessa quantità Lo stesso equilibrio Creano veramente Un prodotto Eccezionale Secondo me Questo è un prodotto Eccezionale Cioè Un piccolo Capolavoro Del cinema italiano Io Già Avevo espresso La mia Ammirazione Per il lavoro E la concretezza Tipica Del lavoro Di Alberto Genovese Qua siamo All'apice Di tutto questo Perché Siamo di fronte A qualcosa Di ancora più Difficile E complicato Perché Il cinema D'animazione Per quanto Uno possa Pensare Mi risparmio Un sacco Di problemi Poi se ne creano Tutti degli altri Cioè Se devo far sanguinare Qualcosa Non devo usare Del sangue finto Però poi Si creano Tutta un'altra serie Di problematiche Quindi è comunque Un'impresa Coraggiosa Soprattutto Appunto Con i mezzi Che si hanno Questo è un film Totalmente indipendente Totalmente Autofinanziato Che poi Fortunatamente Ha avuto Una distribuzione Sta avendo Una distribuzione Io vi Vi esorto Vi esorto Veramente A Andarlo a vedere Perché Non è solo Perché è un bel film Ed è un horror E quindi È il genere Che piace a noi Ma perché Veramente È importante Sostenere Questo tipo di cinema Nostro È importante Sotto tutti i punti di vista Sotto tutti i punti di vista Sia proprio di sostegno Del lavoro Perché ci deve essere Più sostegno Per il lavoro In campo artistico Perché noi dobbiamo Tornare a produrre film E Sia Insomma Sostegno Per i Per i Per i Buoni prodotti Italiani Insomma Quindi Ma Del resto Io Faccio questo discorso Anche per quelli esteri Insomma Tutto ciò che Con coraggio Esce fuori Dal sottobosco Del cinema underground Va sostenuto Secondo me Chiaramente Come potete Come avrete notato Oltre a prendere Il personaggio Del dottor Caligari Prende un po' Tutto Lo stile Espressionista Del cinema Espressionista Appunto Del dottor Caligari Un altro esempio Potrebbe essere Nosferatu di More Now Che cos'è? Il cinema Espressionista O l'espressionismo È una corrente Artistica Che Tende A Enfatizzare Le emozioni Le cose Che si vogliono Rappresentare Accentuandone In modo Accentuando Accentuando Molto Tutto Quanto Quindi L'espressività Addirittura Fino a Distorcere La realtà In favore Della trasmissione Di un'emozione Quindi Potete vedere Come lo vedrete Anche Adesso non so se qua Nel trailer Si riesce a percepire Qualcosa Ecco Come potete vedere Dalle architetture Vedete le architetture Queste architetture qua Assolutamente Neanche Lontanamente Cercano Di essere Realistiche E in prospettiva Ma Semplicemente Sono Esagerate Per creare Un'emozione Particolare Quindi Questa cosa qua La vedete anche Nelle scenografie Per esempio Del Dottor Carigari Il film del 1920 Dove Tra l'altro Gli scenografi Sono appunto Due artisti Espressionisti Sono state dipinte Delle prospettive Assurde Palazzi Tutti storti Fineste storte Sentieri Impossibili E cose del genere Questo è un po' Per dirla In parole povere Il cinema Espressionista Quindi Molto trucco Sugli attori Recitazione Molto Espressiva E Eccetera Questo è un po' Per dirla In modo semplice Anche perché Solo così La so dire Che altro dire La cosa La cosa La cosa bella È che Io non sapevo bene Cosa aspettarmi Alla fine mi sono Ritrovato esattamente Quello che avrei dovuto Aspettarmi Perché Alberto Genovese Ha molta ironia Ed è Un amante Del cinema Horror Quindi All'interno del film Troverete Scene Anche scene di sesso Anche scene di sesso Umorismo Umorismo nero Umorismo nero Molto divertente Troverete anche Scene splatter Violenza Veramente Da farvi Distogliere Lo sguardo Dallo schermo Direte Ma sei pazzo No Non sono pazzo Cioè È veramente bravo Perché Con un uso Dei suoni In particolare Sapete che i suoni Sono Molto Importanti Per dare Delle sensazioni Disturbanti Quando si fa Una scena Splatter Eccetera Quindi con un buon Uso dei suoni Quindi una curata Un'attenta Scelta di suoni E cura dei suoni E scene Splatter Insomma Vi troverete Di fronte a scene Piuttosto estreme Che però Hanno anche Quel sapore Un po' ironico Perché stiamo Sempre parlando Di Personaggi Disegnati un po' Come dei pupazzi Quindi È tutto Abbastanza surreale La storia Scritta da Mattia De Pascali Sceneggiatore Che abbiamo già visto In altri Contesti Ha già scritto Altri horror Indipendenti La storia La storia è veramente Molto figa È veramente Molto figa Perché È veramente Impossibile Da immaginare Ma anche Capace di essere Molto citazionista Un po' Del cinema horror Ma soprattutto Del Anche La storia di base È molto citazionista Del gabinetto Del dottor Galigari Ci sono tutti gli elementi E vengono rimescolati Per una storia Che potremmo definire Uno spin off O un sequel O un prequel Perché non ho capito bene Se il protagonista è Forse sì Forse è un prequel Del gabinetto Del dottor Galigari O comunque Uno spin off Comunque Lasciatemi Perdonatemi Diciamo L'incertezza Su questo tema Comunque Più o meno Avete capito Cosa intendo Molto Molto Divertente E Molto Intrigante Anche la storia Molto Intrigante Anche Molto Anche Degli Spazi In cui Fa riflettere Perché comunque È una storia Che parla Della morte Del tema Della morte Della paura Della morte Scusate Mi rimetto Un attimo Parla Della paura Della morte E di come Appunto Anche di come Ci perdiamo La vita Nella ricerca Continua Di scacciare Questo pensiero Di morte Ci Perdiamo La nostra concentrazione Sul 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 Viversi Il momento Visto che Tanto Poi alla fine Da lì Non si scappa Bello Anche il finale Anche il post Credit Diciamo Il C'è Molto 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 Sono veramente Molto Molto Contento Perché Fa una Grande figura Fa una Grande figura È un Grande film E Merita A sto Punto Il sostegno D Degli Spettatori Perché Non avrà Dei boost Non avrà Cioè Non avrà Che ne so Qualche Mega Influencer Che Che lo Lancerà E dirà Andate Tutti A Vederlo Quindi Siccome Diciamo La massa Non lo Cagherà Dobbiamo Cercare Noi Di dare Un po Perché Veramente È Un bel Feed Nella speranza Che possa Essere Messo Sempre Più In visibilità Da Prime Anche E poi Speriamo Anche Un'edizione In futuro Tra un po' Un'edizione A un video Perché Veramente Questo Merita Assolutamente Di finire In collezione Ultimo tema Per non farla Lunghissima Perché Comunque Sono già D'accordo Con Alberto E Mattia Che saranno Che insomma Faremo una live Insieme Per parlare Del film Però mi piacerebbe Parlarle Sì Anche Di degli aspetti Proprio Artistici Creativi Però Vorrei Anche Tenere Delle parti Su proprio Gli aspetti Pratici Cioè Voglio Che la gente Capisca Quanto È Faticoso Fare Un film Del genere Quanto Veramente Quanto Ci vuole Cuore Follia Pazienza E Follia Soprattutto Follia Perché A un certo Punto Ti senti Ma perché Lo faccio Se tanto La gente Apprezza Solo Insomma Avete capito Per quanto riguarda Invece un altro aspetto Importantissimo Di questo film Che gli dona Una qualità Più alta È il doppiaggio Il doppiaggio È Fatto Benissimo Siamo comunque Nell'ambito Indipendente Però è fatto Veramente bene Fatto Veramente bene Anche il doppiaggio Secondo me È un aspetto Ve ne accorgerete Anche vedendolo Dove Hanno spinto Tanto Per caratterizzare Personaggi E scene Nel senso Che I doppiatori Non si sono limitati A interpretare Dei ruoli Ma sono andati Ben oltre Sono stati Anche loro In un certo senso Espressionisti Nell'interpretare Questo Questi personaggi Perché Faranno Tanti versi Faranno Dei suoni Assurdi Che Dici Ma che cazzo Veramente Ci metteranno Molto di più Di quello Che di solito C'è nel doppiaggio Di un Di un Di un cartone animato Molti suoni Molte Suoni Onomatopeici Diciamo Quindi veramente Complimenti Ai Ai doppiatori Complimenti A regista Complimenti Veramente Questa è proprio La La recensione Del Mi prostro E faccio Mille complimenti A tutti quelli Che hanno lavorato A questa Produzione E sono Molto contento Che Che sia Distribuito Così bene Così bene Nel senso Almeno Per la visibilità Poi dopo Questo è tutto Per la recensione Di Resurrection Corporation Del 2020 Arrivato adesso Su Amazon Prime Video Guardatelo Condividetelo Consigliatelo ai vostri amici Se il video vi è piaciuto Insomma Se state guardando Questa recensione Su Youtube Se il video vi è piaciuto Mettete like Mi lasciate un commento E ci vediamo Insomma Iscrivetevi anche a Twitch Magari Grazie a tutti Grazie a tutti